Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata alzati vieni qui in mezzo. Poi domandò loro è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano e guardandoli tutti intorno con indignazione rattristato per la durezza dei loro cuori disse all'uomo tendi la mano. Egli l'attese la sua mano fu guarita e i farisei uscirono subito con gli erodiani e tenero consiglio contro di lui per farlo morire. Marco 3 versi da 1 a 6. Se c'era qualcuno che proprio non aveva capito Gesù e lo contrastava in tutti i modi erano proprio i religiosi del suo tempo. Gli iscrivi, i farisei, sacerdoti così tenacemente attaccati alle loro tradizioni umane tramandate da tempo da renderli ciechi dinanzi al bisogno reale interiore e materiale dell'uomo. Essi tacevano, non hanno niente da dire. In questo caso vediamo un uomo con una paralisi venire guarito da Gesù e dei religiosi paralizzati dalla loro ottusità e follia. Essi tacevano. Gesù fu rattristato dal loro comportamento, dalla loro mancanza di sensibilità e compassione, dalla durezza dei loro cuori. E vediamo questi farisei non solo disconoscere il Salvatore mandato da Dio ma persino cospirare contro di lui per farlo morire. Cospirare poi con gli erodiani, ovvero con quei giudei sostenitori politici della dinastia corrotta di Erode Antipa. Quindi viene fuori che forse, forse non è che non avevano capito Gesù, ma lo avevano capito fin troppo bene e comprendevano che il loro potere, la loro influenza parassitaria religiosa era a rischio. E cosa non si fa per un posto di potere, per una poltrona, per un bel posto al sole comodo con tutti gli onori? Non c'è niente da fare. Il messaggio di Gesù è totalmente inconciliabile col compromesso di questo mondo, con l'ingiustizia, con la durezza di cuore, con la manipolazione e la sopraffazione del prossimo. Forse è fatta pure nel nome di Dio di una presunta sana dottrina di una tradizione o della religione, anzi peggio, sarebbe un aggravante. Essi tacevano mentre vediamo Gesù che ha parlato ed ha agito. E' infatti venuto a portare salvezza e liberazione in ogni area dell'uomo, disponibile per chiunque lo voglia. Lui è il Redentore che chiede esclusivamente di accettare questa offerta di grazia e di amore grande da parte del Padre.